due abbiamo fatto lo stesso tipo di incidente uguale allora questa è la hornet questa è la hornet 600 questa è la hornet 600 vedi la mia è una FZ la sella sta bene, il serbatoio è leggermente ammaccato cioè leggermente la botta in calo, il commutatore manca nei specchi, il commutatore è buono più o meno, il serbatoio è tutto a posto, il fuccello fresco